Chiudono le piccole imprese commerciali, chiudono gli artigiani, in questo modo i quartieri diventano dei quartieri dormitori, perché è chiaro che le imprese commerciali hanno anche una questione di presidio, di tener vivo il quartiere. Altra cosa fondamentale è l'abusivismo, perché come vedete a Roma come cadono due gocce d'acqua, quindi ora in questo momento ci sono quelli che ti tirano fuori l'ombrellino e ti dicono se lo vuoi comprare a 10 euro, certamente non saranno lì per caso le tante bancarette, e questi tolgono il 30% di fatturato ai commercianti, quindi anche su questo dovremo fare una lotta veramente senza pietà. Però è chiaro che per far questo dobbiamo anche migliorare la qualità delle forze di polizia, anche il livello di sicurezza di questa città. Per esempio a Roma ci sono 6500 poliziotti, la polizia municipale, sono nettamente sottodimensionati, sono sottodimensionati ad esempio il rapporto una città con Milano, ma è imbarazzante, dovrebbero essere circa 8500, c'è anche il concorso ed è già finanziato, ma soprattutto sono lentamente privi di sfrumentazione, nonostante svolgano attività di polizia fondamentali. L'85% dei livelli è fatto proprio dalla polizia municipale, ne ho parlato anche con loro e sono totalmente demotivati, quindi dobbiamo anche lavorare su questo, lavorare nel concorso sulla sicurezza di questa città. Abbiamo pensato di fare un centro unico operativo tra tutte le forze dell'ordine. Anche le piccole imprese stanno cosprendo, perché? Perché a Roma lavorano sempre le solite 3-4 grandi imprese, i grandi costruttori, le grandi imprese che operano il settore degli appalti pubblici. Perché? Perché si fanno sempre, come al solito, come diceva anche Angelo prima, le solite grandi opere. Si pensa a fare le opere paraoniche, la metro C, che ci sta costando un sacco di milioni di euro al chilometro, dovrebbe costare 170 milioni al chilometro, come ogni metropolitana europea, ormai abbiamo perso il conto. Non sanno neppure quanto costerà per finirla. Quindi, e qua mi ricollego a quello che diceva Cristiano, dobbiamo ripristinare il concetto di democrazia partecipativa. I cittadini, noi, voi, dobbiamo essere coinvolti per stabilire quelle che sono le opere importanti di questa città. Sempre in tema di mobilità, se ne vorrebbero fare tantissime, si vorrebbero fare metropolitane leggerne, metropolitane di superficie, si possono fare in project financing, quello vero, non quello in cui si dà il corrispettivo concubatura, come è stato fatto per la metro B1. Esistono già dei progetti, c'è quella metropolitana di superficie sul Palmiro Toglià, si può fare in project financing, 80, 100 milioni, si fa in due anni, item quella Cinecittà, Tor Vergata. E comunque fare le piccole opere, le opere di manutenzione, l'importo che il Comune di Roma spende per le strade, è ridicolo, mi pare che a bilancio ci siano 12 milioni di euro, quindi fare i piccoli lavori, tanti piccoli interventi di manutenzione, di decoro urbano, che sono quelli che piuttosto che far lavorare la grande impresa, fanno lavorare la piccola impresa. Ne abbiamo parlato anche con loro, anche con gli imprenditori, che ne erano d'accordo. A Roma il 97% delle imprese ha da zero a 10 dipendenti, sono quelle che stanno morendo, perché non ricevono il pagamento dei corrispettivi, perché non ricevono microcredita, quindi anche su questo dobbiamo lavorare. Altro tema importante, l'ha toccato Enrico, la mobilità, la mobilità, penso che i nostri parlamentari che si sono trasferiti a Roma hanno capito che cos'è, il frutto di 40 anni di politiche sbagliate, perché abbiamo sempre, e io vi dire, ci rivedremo nel Consiglio Polone, e sta con piacere, ci rivedremo nel Consiglio, va bene, scusate. Grazie, scusa. Allora, gli interventi dei portavoce e dei candidati di portavoce sono finiti qui, adesso comincia la parte di intrattenimento, vedrete tra pochissimo una performer che si chiama Simona Gandola, e praticamente è una performer di Send Art. Buona performance. Finalmente il po' della musica dopo tutte queste piacere. Mi segnalano di ricordare a tutti voi che il Movimento 5 Stelle non prende finanziamenti pubblici e che i finanziamenti per la campagna elettorale e per tutte le attività che sono necessarie vengono solo dal merchandising e dalle donazioni. Il banchetto del merchandising è alla destra del palco. Vi auguro ancora di godervi la performance che sta per cominciare. Guardate, ho parlato. ! Ogni generazione, nel condividere in parte la vita della terra, ha il dovere di amministrare per la generazione di futuro, di impedire danni irreversibili alla vita sulla terra, nonché alla libertà e alla dignità umana. Grazie. 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 come fare a riparare tutto questo, dovremo smettere di distruggere. Grazie a tutti. 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 Bell'applauso di incoraggiamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.